ho capito che oggi non c'è il master quick ma anche il dj panda e non poteva mancare è un regalo gradito quasi c'è un dj panda in balsamato di peluche proviamo l'altro pacco gigi d'agostino che remixa i fagnan kennibus con the flame ma i regali non sono finiti qua eh eccone un altro caro il bel per ascoltare questi tre regali basta rimanere qui su radio italia netto ciao sono gigi d'agostino e volevo fare un caloroso augurio di buon natale via satellite a tutti gli ascoltatori d'italia network e volevo farvi un bel regalo di natale via radio che è il mio remix dei fagnan kennibus lo scuola rai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.